E' davvero magnifica la lettera del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, che scrive di getto ai suoi studenti. Parole piene di affetto dopo che la situazione di emergenza del nostro paese è tornata ad aggravarsi e il presidente della regione Abruzzo ha disposto alla sospensione delle attività didattiche nelle università e nelle scuole di secondo grado fino al 24 novembre, ma senza certezza sulla effettiva durata di questa situazione. Lo stato d'animo che ci pervade, scrive ai ragazzi Mastrocola, non è certamente dei migliori, dopo l'impegno profuso, le rinunce, i sacrifici che ci sono stati chiesti in passato e che oggi risultano ulteriormente rafforzati. Siamo ancora una volta chiamati ad essere quello che siamo sempre stati, una comunità viva, forte, coesa e con un non comune senso di appartenenza. Il rettore ricorda agli studenti che l'Ateneo di Teramo oggi non chiude, sono solo sospese le attività didattiche in presenza, i cancelli e le porte di unite resteranno aperte, le facoltà, la biblioteca, la segreteria, i laboratori e gli altri servizi essenziali continueranno ad accogliere chi ne ha necessità. La situazione che stiamo vivendo, continua Mastrocola, è particolarmente difficile, soprattutto per voi ragazzi, ma vi chiedo di continuare ad ascoltare ed elaborare i messaggi accorati che giungono dalle autorità e da chi sta combattendo in prima linea questa battaglia. È compito di ognuno scegliere da che parte stare e quali azioni compiere. Ed ecco il messaggio finale che il magnifico rettore intende far arrivare agli iscritti di Unite. Cari ragazzi, approfittate di questo periodo per studiare ed accrescere le vostre conoscenze e competenze. Lo studio vi aiuterà ad affrontare il presente, ma vi darà anche gli strumenti per essere protagonisti quando questa crisi prima o poi finirà.